Carlo Ossola è filologo e critico letterario, socio dell'Accademia dei Lincei e membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Insegna al Collège de France, cattedra di letterature moderne dell'Europa neolatina e dirige l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Il Ministero dei Beni Culturali lo ha nominato presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. I suoi saggi, in cui la ricerca filologica è sapientemente intrecciata alla storia delle idee, si rivolgono alla cultura rinascimentale, come ad autori contemporanei, i quali Ungaretti e Calvino, dedicandosi anche all'analisi dello spazio letterario e delle figure che lo popolano. Tra i suoi ultimi saggi ricordiamo trattato delle piccole virtù, breviario di civiltà del 2019 e per domani ancora, vie di uscite dal confino del 2020. Signore e signori, Carlo Ossola. Gentili signore e signori, illustri autorità, caro Alberto Sinigaglia. Non si tratta stasera, proponendo questo titolo, se Dante sapesse, di immaginare una storia controfattuale. Ce ne sono già troppe. Bensì, guardando non già con il nostro occhio a Dante, ma con quello di Dante a noi, di cercare di misurare quale potrebbe essere la reazione di Dante se fosse richiamato per un giorno in vita, in questo settecentesimo centenario, di fronte ad alcune delle nostre esegesi del suo poema. Spesso quando leggo i commenti a Dante mi rendo conto che i miei colleghi commentano nella sensazione che Dante sia definitivamente morto. Ma noi non lo leggiamo perché è definitivamente morto, ma perché è presente e vivissimo. Inizierei dal personaggio che parla di più in tutto il poema, a parte le due guide, cioè Virgilio e Beatrice, vale a dire l'antenato di Dante Cacciaguida, che illustra al poeta per tre lunghi canti, Paradiso 15, 16 e 17, la storia di Firenze e il destino di esilio che attende Dante stesso. Vi leggo le didascalie che accompagnano questi tre canti fino dai commenti più antichi del quattordicesimo secolo. Canto 15, nel quale Messer Cacciaguida Fiorentino parla, laudando l'antico costume di Firenze, in vituperio del presente vivere di essa città di Firenze. Canto 16, nel quale il sopradetto Messer Cacciaguida racconta intorno di quaranta famiglie onorabili al suo tempo nella città di Firenze, delle quali al presente non è ricordo né fama. Cioè Cacciaguida, all'altezza, diciamo, dell'anno 1300, dove si inventa che sia stato vissuto questo viaggio, in realtà sappiamo che il Paradiso è scritto dal 1315 in poi, descrive a Dante, al suo discendente, una Firenze che non esiste più, cioè quaranta famiglie che già sono estinte, che è anche una maniera, come dire, consapevole di prendere distanza da una città che non è più quella, perché i veri protagonisti non ci sono più. Canto 17, nel quale il predetto Messer Cacciaguida solve, cioè spiega, l'animo dell'autore per liberarlo da una paura e confortarlo a fare quest'opera. Questo dicono le didascalie dei canti di Cacciaguida. Sappiamo bene che si tratta di una delle parti più ardue e Benedetto Croce direbbe persino in poetiche della commedia, tranne forse, questa nota a tutti a memoria, la profezia dell'esilio. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente e questo è quello strale che è l'arco dello esilio, l'arco dell'esilio, prima saetta. Proprio l'esilio è un bersaglio, cioè è un dardo che lancia la freccia al bersaglio del cuore. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Sono versi notissimi, riscritti da Osip Mandelstam, ma non è su questo punto che vorrei trattenere la vostra attenzione. Tuttavia Dante, che se fosse qui sarebbe perfettamente consapevole che quelle 40 famiglie già estinte al suo tempo lo sono ancora di più oggi. Cosa potrebbe dirci di esse? E quindi sarebbe contento nell'ascoltare un nostro contemporaneo che ha dato un'aura di fascino e di malinconia a quei nomi di gente spenta. Si prenda dunque la sequela delle famiglie fiorentine ormai scomparse al centro del canto XVI. All'illustrazione storica ed erudita che nuclea la vicenda di quelle casate finite, per noi anche nomi inerti, si sovrappone e prevale la ragione poetica che partendo dalla considerazione di tante genti disfatte, questo è il termine di Dante, disfatte, Contempla la malinconica sequenza del Ubi Sun, cioè dove o sono ormai che un topos medievale, quel favoleggiato spegnersi di tanti nomi che ora sono litania, dolente e tuttavia dolce ritmo di memoria. Non diversamente Roland Barthes contempla i cognomi della sua infanzia, di una mitica bayonne dove passava le estati. Traduco direttamente. Parla in terza persona. Una parte della sua infanzia è stata assorbita in un ascolto particolare, quello dei nomi propri delle antiche famiglie della borghesia di Bayonne, che gli ascoltava ripetere tutto il giorno dalla sua nonna, come si può avere un rapporto amoroso, continua Barthes, con dei nomi proprii. Il nome, come la voce, come l'odore, avviene al termine di un languore, desiderio e morte. L'ultimo sospiro che resta delle cose, dice un autore del secolo scorso, ed è Barbet d'Oreville. Qui, effettivamente, Roland Barthes dà un enorme aiuto a questi canti faticosi. Per chi insegna, credo che posso testimoniare, che sono faticosi da far apprendere. Non sempre Dante troverebbe alleati di questa qualità, a parte naturalmente i poeti del Novecento, Ezra Pound, T.S. Eliot, Mandelstam, Jorge Luis Borges, con cui concluderemo. E neppure Conforto, nonostante l'Ottocento e il Novecento abbiano celebrato il poema, cioè la Divina Commedia, come il trionfo di Beatrice. C'è un libro celeberrimo americano che si intitola Journey to Beatrice, Viaggio a Beatrice di Charles Singleton. Ripeto, pochi lo accompagnerebbero dei poeti contemporanei per consolarlo della tremenda requisitoria, qui bisogna dire le cose come stanno, che Beatrice inscena, da donna gelosa e tradita, al suo proprio apparire, ai canti 30 e 31 del Purgatorio. Noi ricordiamo sempre, perché questo è il mito romantico che ci è stato consegnato da De Santis, da Gabriele Rossetti, e anche un po' dal melodramma, una Beatrice, donna angelicata e angelicante. Ma nella Commedia, e così appare naturalmente anche nella Vita Nova, è in parte soltanto delle rime di Dante, perché poi ci sono le rime per la donna Petrosa, le rime per la malinconia, che sono ben differenti. Però, insomma, la vulgata è questa qui. Ma nella Commedia, Beatrice, almeno nel Purgatorio, quando appare, è ben differente. È una donna che appare militarmente, come, cito, ammiraglio in poppa di una nave che ferisce di punta e di taglio, canto 31, e quindi occorre prima leggere quelle terzine, almeno nell'essenziale, per intendere di quale illusione critica siamo spesso vittime. E devo dire anche per onor di Dante, perché, diciamo così, si vanno a cercare eroine per i movimenti femministi, ma questa Beatrice se l'era già mangiata in insalata appena compare nella Divina Commedia. Dante si presenta molto timido. Virgilio se ne sta andando e sta per arrivare Beatrice. volsimi alla sinistra col rispetto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto per dicere a Virgilio men che dramma di sangue mi rimaso che non tremi. Conosco i segni dell'antica fiamma, agnosco segni antico e famme, è un verso di Virgilio stesso. ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé? Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemmi. È uno che si è affidato totalmente a questo dolcissimo padre. Non passa un istante, lui si volge di là e dall'altra parte sente questa voce durissima. Dante perché Virgilio se ne vada non piangere non piangere ancora che piangerti convien per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben far la incora in sulla sponda del carro sinistra quando mi volsi al suon del nome mio che di necessità qui si registra vidi la donna che pria mappario velata sotto l'angelica festa drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. Dante non ha ancora varcato il rio che lo porterà al paradiso terrestre. tutto che il vel che le scendea di testa cerchiato delle fronde di Minerva cioè del lauro non la lasciasse parer manifesta regalmente nell'atto ancora proterva continuò come colui che dice è più caldo parlare dietro riserva. Dante si rende conto che sta per cominciare con quell'atto protervo di Beatrice una durissima requisitoria come uno che comincia ma lascia già intendere che dopo verrà il peggio. Guardaci ben ben son ben son Beatrice come degnasti di accedere al monte non sapei tu che qui è l'om felice gli occhi miei mi cadder giù nel chiaro fonte cioè Dante è vergognato si abbassa ma veggendomi in esso io li trassi all'erba tanta vergogna mi gravò la fronte cosa poi anche il paragone è duro così la madre al figlio par superba come la parve a me Dante pur in quella situazione di colpa perché è attaccato direttamente trova che la madre è superba perché d'amaro sente il sapor della pietate acerba è una pietate acerba cioè che suscita non misericordia ma dispetto umiliazione tanto tanto che gli angeli qui riassumo che sono intorno i beati devono intervenire e dire donna perché si lo stempre come si distempra una corda d'acciaio tesa l'acciaio di oggi ma insomma come si toglie la tempra a uno strumento è come se ha cominciato con disfatto ricordavo delle famiglie fiorentine e qui Dante addirittura distemprato lo gel che mere intorno al cor ristretto spirito e acqua fessi cioè vengono giù le lacrime e con angoscia della bocca e degli occhi uscì dal petto ella pur ferma in sulla detta coscia del carrostando alle sostanze pie volse le sue parole alle sostanze pie volse le sue parole manco degna Dante di uno sguardo lo sguardo è rivolto ai beati perché siano testimoni dell'accusa che ora sta per rivolgere questi futal nella sua vita nuova virtualmente che ogni abito destro cioè ogni buon comportamento fatto avrebbe in lui mirabile prova ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terreno con malseme malseme Dante è cresciuto come un cattivo seme e malcolto cioè non coltivato quant'elli ha più di buon vigor terrestro poi fa anche la propria storia retrospettiva alcun tempo il sostenni col mio volto mostrando gli occhi giovinetti a lui e me colmenava in dritta parte volto cioè tutto ciò che viene celebrato nella vita nuova si tosto come in su la soglia fui di mia seconda etate e mutai vita perché Beatrice muore giovani questi si tolse a me e di essi altrui e si diede ad altre donne quando di carne a spirito era salita cioè era scesa al cielo e bellezza e virtù cresciuta miera perché la nuova bellezza eterna dei beati fu io a lui men cara e men gradita e volsi i passi suoi per via non vera immagini di ben seguendo false che nulla promission rendono intera quindi si è totalmente traviato andando dietro a idoli alto fatto di Dio sarebbe rotto se le tè si passasse cioè il fiume che cancella il ricordo delle colpe e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lagrime spanda vuol vederlo piangere di pentimento ma il canto che finisce a questo verso 145 non lascia tregua perché subito dopo il canto 31 comincia con un'altra apostrofe quella che Dante temeva o tu che sei di là dal fiume sacro volgendo suo parlare a me per punta quindi proprio diretto che pur per taglio mi era paruto acro quando era andato così di taglio già era stato durissimo adesso lo rivolge di punta come in un torneo di scherma duro ricominciò seguendo senza punta cioè senza intervallo di di se questo è vero a tanta accusa tua confession conviene essere congiunta e pochi versi dopo aggiunge con una cattiveria tutta femminile e quali agevolezze o quali avanzi agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro cioè delle altre donne perché dovessi loro passeggiare innanzi la commedia non è una cosa messa lì in naftalina qui siamo in un discorso di una potenza anche di diciamo di sentimenti di passioni anche Beatrice ha questa straordinaria forza ecco evidentemente Dante nella commedia ha avuto bisogno direi di trovare consolazione dopo un discorso così prima che Dante si riprenda da questa diciamo lezione passeranno molti canti e alla fine quando lo si contempli dopo un'intera cantica contemplarla che se ne va è come se per il sopravvenire di San Bernardo è come se quel dialogo interrotto non si fosse totalmente rimarginato Borges ha delle frasi bellissime sul congedo di Beatrice quando dice si lontana come parea dice al proprio lettore Borges lontana è l'ultimo aggettivo di Beatrice nella divina commedia hanno fatto una cantica intera insieme sono al sommo del paradiso si lontana come parea la vede lassù ormai in una gloria che non è quella di Dante qui allora veniamo diciamo alla parte che controbilancia quello che ho appena detto cioè che Dante anche nel ventesimo secolo non troverebbe e credo anche non nel ventunesimo consolazione se Dante cercasse presso i poeti del ventesimo secolo diciamo un appoggio una consolazione si troverebbe assai a disagio la figura di Beatrice non giganteggia più ostile o amica che fosse perché comunque c'è un enorme rispetto da parte di Dante chiamandola ammiraglio adesso non so se tutti hanno in mente ma penso di sì perché era nei nostri diciamo nella memoria dei nostri studi ma Dante quando parla di mare dice Guido io vorrei che tu e l'apoio messi insieme in un vasello cioè in una piccioletta barca Dante si pensa per mare ma in una piccioletta barca così anche dice ai lettori all'inizio del paradiso o voi che siete in piccioletta barca questa è la dimensione di una barca da di porto è quelle che vanno lungo lungo la riva Beatrice è ammiraglio cioè comanda una flotta una flotta di beati una parvenza angelica ostile o no che fosse era comunque a una dimensione molto più alta di quella di Dante ebbene la figura di Beatrice non giganteggia più si rimpicciolisce discende nell'anonimato quotidiano porterò due esempi di due grandi Beatrici del ventesimo secolo uno americano e l'altro italiano ricordate tutti un autore che è rimasto diciamo nella nostra memoria un grande autore del primo quarto del ventesimo secolo Edgar Lee Masters che non nella sua celeberrima antologia di Spoon River ma nella New Spoon River di pochi anni successiva 1924 scrive l'epigrafe anche lì sono di nuovo epigrafi come nella Spoon River antology dedicata a un personaggio che ha nome italiano quindi però non essendo Beatrice i filologi sono spesso distratti e quindi non se ne sono accorti vi leggo aveva almeno 35 anni quindi l'età appunto di Dante quando pensa di iniziare il poema e io ne avevo 15 questo io è Laura Santini nome e cognome in italiano nella New Spoon River e continuava a fissarmi a fissarmi ogni volta che ci incontravamo un giorno mentre mi fissava colsi la visione della bellezza celeste che era nei suoi occhi qui è Beatrice che guarda la bellezza celeste degli occhi di Dante vedendolo allora tanto ammaliato da una comune mortale come me e ricordandomi del buco nella mia calza gli sorrisi in quell'istante compresi perché Beatrice sorrise a Dante quindi vedete che qui Beatrice è riportata altro che ammiraglio a un atto mancato è una ragazzotta comune che ha un buco nelle calze e pensa che Dante le sorrida perché si si è accorto di questa smagliatura è proprio ricondotta per così dire al grado zero più ancora da noi dove la tradizione dantesca del novecento è molto forte pensiamo a Caproni a Luzzi poi anche ai tre grandi poeti che hanno riscritto in forma drammaturgica la commedia cioè Sanguinetti Luzzi e Giovanni Giudici Giovanni Giudici dunque dedica una raccolta intera a Beatrice il titolo è O Beatrice 1972 più tardi riscriverà il paradiso in forma drammaturgica perché mi vinse il lume desta stella 1990 e probabilmente verrà riportato in scena sempre dalla stessa compagnia di Tiezzi in quest'anno dantesco appena le condizioni lo permetteranno la Beatrice di Giudici è tuttavia sin dal titolo del volume con nome minuscolo o Beatrice biminuscolo non a cielo né manto e pervenza anomnima goffa sedutrice figura di every man cioè di ciascuno ma nel modo più dimesso vi leggo dunque anche molto rapidamente queste purtroppo sono meno note tre poesie di Giudici dedicate appunto a questa Beatrice la prima è proprio eponima alla Beatrice sempre biminuscolo Beatrice sui tuoi seni io ci sto a spiare ciò che fanno seduti intorno a un tavolo i tuoi pensieri su sedie di paglia ospiti appena arrivati o sul punto di partire raccolti sotto la lampada gialla uno che ride uno che ascolta e uno che parla Beatrice dai tuoi seni io guardo dentro la casa dalla notte esteriore superstite luce nella selva selvaggia ecco qui la citazione dall'inizio dell'inferno che a te conduce dalla padella alla brace estrema escursione termica che mi resta più fuoco per me tua minestra Beatrice costruttrice della mia beatitudine infelice Beatrice dal verbo beare nome comune singolare e questa è la chiusa della prima della prima poesia tuttavia giudici non fa questo per diciamo sgarbo al sommo poeta abbiamo già visto la selva selvaggia ma c'è addirittura nella stessa raccolta una poesia che si intitola sparizioni dove giudici cita un verso importante del terzo canto del paradiso ed è il primo della raccolta stessa della poesia stessa come per acqua scura cosa grave Dante dice come per acqua cupa cosa grave più di una cosa ho veduta calare non inghiottita di colpo bensì lentamente quasi che ancora si potesse acchiappare ma è tutto così proprio molto minutamente quotidiano acchiappare prima dalla padella alla brace è una Beatrice diremmo di cucina o di retrobottega ecco e da ultimo la poesia che chiude la raccolta si intitola O Beatrice di nuovo minuscolo ed è quello che dicevo prima senza manto e senza cielo o Beatrice senza manto senza cielo né canto Beatrice fiato e voce dell'inchiodato in croce o Beatrice senza santi senza veli né oranti Beatrice tutta di furore di febbre e tremore Beatrice pietosa figlia et mater mea gloriosa Beatrice che si spezza per troppa tenerezza o Beatrice mia apprensiva o Beatrice viva ecco che in questo finale la Beatrice prima presentata come una matrona diciamo dalle fattezze abbondanti diventa adesso come la mater pietosa Beatrice pietosa figlia et mater figlia del tuo figlio come dice l'ultimo canto del paradiso figlia et mater mea gloriosa Beatrice che si spezza per troppa tenerezza qui il discorso si farebbe lungo perché dietro questa figura c'è evidentemente la figura della madre la sola parola che ricordo di mia madre che Giovanni Giudici non conobbe praticamente morì quando egli era veramente infante ed è un po' leitmotiv poi che accompagna tutta l'opera di Giovanni Giudici tuttavia ritornando al nostro tema potremmo dire che certamente gli interpreti pur così alti del novecento non lo consolerebbero della rampogna di Beatrice anzi Dante si trorebbe forse un po' spaesato a vedersela così domesticamente modesta tutto un poema per lei ecco sarebbe un po' a disagio ma da chi dunque farsi consolare se Dante risorgesse oggi dico questo perché bisogna essere degni di Dante l'Ottocento nell'Ottocento Dante ha avuto personalità che se l'avessero incontrato Dante si sarebbe sentito consolato Victor Hugo per esempio che in una poesia brevissima celebra Dante come il capostipite dell'umanità oppure l'amnè che è perseguitato dalla chiesa messo al margine da tutto povero umiliato proprio quasi uno straccione alla fine della vita traduce la divina commedia in una delle traduzioni che sono ancora adesso tra le più belle oppure nel novecento Mandelstam che si porta dietro il suo piccolo Dante nel viaggio per la Colima dove non arriverà perché muore distenti prima oppure il primo Levi è il capitolo piccolo in sequestro nuovo e tuttavia Dante se risorgesse oggi troverebbe strani alleati per esempio Marx e Engels che lo pongono emblema universale della libertà Marx nel capitale e Engels nella prefazione all'edizione italiana Engels sapeva anche l'italiano del manifesto del partito comunista datato 1893 Marx era morto dieci anni prima vi leggo questo passo impressionante perché è dedicato a Dante il manifesto rende piena giustizia all'azione rivoluzionaria che il capitalismo ebbe nel passato la prima nazione capitalista è stata l'Italia cosa giustissima perché il fiorino è stato inventato a Firenze ma è rimasto moneta dell'Olanda con cui erano regolari gli scambi fino alla nascita dell'euro quindi lì i due vedevano storicamente in maniera perfetta il chiudersi del medioevo feudale e l'aprirsi dell'era capitalista moderna sono contrassegnati da una figura colossale è quella di un italiano Dante al tempo stesso l'ultimo poeta del medioevo è il primo poeta moderno oggidì come nel 1300 una nuova era storica si affaccia l'Italia ci darà essa il nuovo Dante che segni l'ora della nascita di questa nuova era proletaria Londra primo febbraio 1893 la diciamo così la sorpresa è grande ma credo che Dante che vedeva come questi teorici dell'Ottocento che le soluzioni o sono universali o non sono soluzioni perciò Dante scrive il trattato sulla monarchia universale non c'è giustizia se la giustizia non è per tutti ma qui avete sentito e sentirete domani altre voci ben più autorevoli però Dante la pensava così non c'è i valori non sono mai parziali o sono universali o non sono valori la loro motivazione è solida perché anche essi leggevano in italiano sia Marx che Engels la commedia nell'edizione critica di Karl Witte una delle prime edizioni critiche della Divina Commedia in italiano è stata di un tedesco la prima società dantesca non è quella italiana a Firenze ma è quella tedesca nata 25 anni prima qui un po' cercare anche di capire quali sono diciamo così le nostre radici storiche in seno all'Europa bisogna ritornare a De Gasperi Adenauer perché diciamo nella storia tedesca l'asse diciamo così culturale verso l'Italia Goethe che va fino a Palermo tutti gli altri se va bene e si fermavano a Napoli è fondamentale e celebriamo quest'anno Dante bisogna ricordarci che la prima società dantesca è quella tedesca ma leggendo l'edizione critica di Karl Witte in italiano Marx e Engels potevano rendersi conto che Dante lì è presentato come un vero grande profeta i nostri critici cominciando dal De Santis dicono la commedia è il poema per Beatrice perché l'unica volta in cui Dante è il nome Dante è pronunciato è pronunciato da Beatrice al nome mio che di necessità qui si registra come ho appena letto ma è il nome mio proferito con obrobrio con insulto con grave gravame di colpa ma Witte che era un filologo attento si rende conto che in realtà è così pubblica prendete ancora l'edizione oggi esistente di Witte è ancora così Dante è pronunciato il nome Dante una seconda volta nel paradiso e vedremo da chi la fonte non è Witte ma è il boccaccio che non è l'ultimo degli autori e anche lui come l'amnè ha chiuso la sua vita commettando Dante a Firenze dove il nome di Dante era ancora bandito quindi anche rischiando del proprio nel suo commento alla commedia ultima opera alla vigilia della morte è di fatti rimasta interrotta al canto diciassettesimo dell'inferno per il sopravvenire della morte il boccaccio nell'accessus cioè nel prefazione diremmo noi oggi ci propone un'osservazione capitale quanto all'incontro di Dante con Adamo nel canto ventiseiesimo del paradiso qui va fatta anche un'altra osservazione Dante da cui purtroppo ci separa un abisso di ignoranza Dante pone Adamo in paradiso contro tutta la tradizione medievale perché Dante è quello che ha fatto il primo peccato per cui tutta l'umanità è stata così mal ridotta è entrata la morte no Dante lo mette in paradiso ma perché ma perché questa è l'opera del sesto giorno è l'opera del compimento della Genesi ma può mai Dio aver fatto tutto bello il creato la natura i pesci gli uccelli gli alberi e poi aver fatto uno sgorbio di uomo che non sa resistere a una tentazione e no Dio non può tradire se stesso ha fatto Adamo come compimento della creazione ergo Adamo in paradiso avrà pur fatto tutti i peccati ma cosa volete che siano rispetto alla grandezza della creazione di cui egli è l'ultimo frutto e il più alto testimone dunque è in paradiso in un punto paradiso 26 più alto dei canti nei quali Dante pone per farsi esaminare intorno a fede speranza e carità San Pietro San Giacomo e San Giovanni cioè bisogna un po' ricordarle queste cose sono proprio elementi minimi di struttura ma insomma Dante io ho controllato decine centinaia di volte c'è soltanto Beda il Venerabile che dice e Adam commentando un passo dice sì questa città è chiamata così perché era la città dei patriarchi e fa il nome dei patriarchi cominciando da Adamo Abramo eccetera eccetera ma non dice che necessariamente Adamo sia il migliore dice no quella è la città dei patriarchi Dante lo mette in paradiso e Boccaccio fedele a quella lezione dice noi oggi leggiamo così a paradiso 103 105 Adamo sta rispondendo a Dante Dante è sempre curioso vuole sapere risponde alla prima domanda e anticipa la seconda Dante voleva sapere se si parlava ancora la lingua stessa di Adamo al tempo in cui nacque il Cristo Adamo gli dice no la confusione di Babele ha cancellato tutto non c'è più lingua primeva viviamo nell'arbitrario ognuno ha la sua lingua per eunte tutto se ne va risposta molto diciamo radicale e allora anticipando la seconda domanda noi oggi leggiamo nei testi correnti nelle cosiddette edizioni critiche anche senza essermi proferta da te la voglia tua dicerno meglio che qualunque cosa ti sia più certa io Adamo dicerno il tuo desiderio di conoscere molto meglio di qualunque cosa che da te è più conosciuta ma questa lettura è una lettura che non viene consegnata a noi che da un certo numero di codici antichi voi sapete lo dico tra parentesi non c'è nessun autografo della divina commedia quindi noi leggiamo un testo che è stato diciamo così l'unico che ha cercato di fare una sintesi è Giorgio Petrocchi che l'ha pubblicato secondo l'antica vulgata secondo i cento codici più autorevoli del quattordicesimo secolo ma noi non abbiamo niente di Dante neanche una firma di quando era a priore tutto per tradizione orale i primi codici sono 14 anni dopo la sua morte allora i codici più antichi dicono i codici più antichi adesso non la faccio lunga poi volevo proiettare ma mi hanno detto giustamente di non sognarmelo perché c'è troppa luce poi i caratteri medievali sono piccolini ma vi avrei proiettato volentieri anche i primi incunaboli cioè non solo i codici antichi ma anche tutti i primi incunaboli cominciando da quello bellissimo di una bellezza sfolgorante come nitidezza dei caratteri come pergamena cioè l'edizione Numeister 1472 della Divina Commedia Foligno poi quella commentata da Cristoforo Landino 1481 è il commento più bello alla Divina Commedia beh tutti questi incunaboli portano come anche i tre codici esemplati cioè trascritti dal boccaccio di mano propria senza essermi proferta Dante la voglia tua dicerno meglio nei codici poteva essere scritto così da e poi la N sovrascritta come una sorta di diciamo di N alla spagnola oppure Dante tutto attaccato con il TH oppure Dante come noi leggiamo i codici hanno tutte queste varianti ma naturalmente questo cambia molto anche per chi lo leggesse nella Germania di Witte Dante è pronunciato come un patriarca come un fondatore da Adamo che lo autorizza e in effetti boccaccio nel proporre questa lezione commenta l'altra persona la prima è Beatrice alla quale nominarsi fa è Adamo nostro primo padre al quale fu conceduto da Dio di nominare tutte le cose create quindi Dante è il novello Adamo autorizzato a rinominare nell'eterno le cose dell'umanità e perché si crede lui Adamo averle degnamente nominate volle Dante essere da lui nominato come una sorta di vero battesimo Adamo ha dato secondo la Genesi il nome a tutte le creature ebbene lo dà anche a Dante nella eternità mostrando che degnamente quel nome imposto gli fosse con la testimonianza di Adamo la qualcosa fa nel canto ventiseiesimo del paradiso laddove Adamo gli dice la Dante la voglia tua dicerno meglio sono ai 19 quindi salto una parte che non è che una conferma ma ci porterebbe in storie di manoscritti e di incunaboli vengo alla conclusione Dante che sa di peccare di superbia più che di altri peccati lo dichiara anche probabilmente ne sarebbe lieto egli stesso ormai come nei miei sospiri estremi di Buñuel personaggio del nostro libro dei libri che abbiamo a scuola più che autore divenuto lettore incuriosito del suo stesso poema chissà se vedesse tutte le commedie che circolano con tutti i commenti lascio perdere i gelati le altre cose tristissime che ci ha dato quest'anno entrato egli Dante nella propria storia come Paolo e Francesca suoi personaggi erano entrati nella storia di Ginevra e Lancillotto che stavano leggendo e dal qual poema sono talmente presi che a loro volta si baciano beh Dante ormai si sentirebbe gli stesso personaggio come lo è del resto del proprio poema allora per chiudere diciamolo con i versi di Jorge Luis Borges è una poesia molto bella dalla cifra che si intitola Inferno 5 129 cioè proprio il verso esatto del canto di Paolo e Francesca ed è quello che in sostanza io proporrei a voi poi dopo la lettura non faccio più commenti anche a me stesso di fare quando si vuole leggere Dante pensare che dentro un brusio infinito che gli stesso ha suscitato e che bisogna molto umilmente dire con Claude Lévi-Strauss ogni versione del mito appartiene al mito egli stesso ormai che l'ha suscitato ne è parte noi che crediamo di possederlo di commentarlo come stasera di presentarlo entriamo anche noi in quel brusio però ogni tanto in questo brusio si alza una parola vera con la quale chiudo lascian cadere il libro ormai già sanno che sono i personaggi del libro lo saranno di un altro l'eccelso ma ciò ad essi non importa adesso sono Paolo e Francesca non due amici che dividono il sapore di una favola si guardano con incredulo stupore le mani non si toccano hanno scoperto l'unico tesoro hanno incontrato l'altro non tradiscono ma la testa perché il tradimento richiede un terzo ma essi esistono solo loro due al mondo sono Paolo e Francesca ma anche la regina e il suo amante cioè Ginevra e l'Ancillotto e tutti gli amanti esistiti dal tempo di Adamo e la sua Eva nel prato del paradiso un libro un sogno li avverte che sono forme di un sogno già sognato nelle terre di Bretagna altro libro farà altro libro cioè la Divina Commedia farà che gli uomini sogni essi pure li sognino termino qui grazie